A Gioia Tauro, a meno di colpi di scena, si andrà alle urne il 21 ottobre. Sabato sono stati presentati liste e candidati a sindaco ai consiglieri per la tornata elettorale autunnale. Ma ancora in città non c'è la pienezza piena che si andrà al voto. Domani ci sarà il Consiglio dei Ministri e si teme che anche questa volta possa arrivare una nuova proroga del commissariamento straordinario del Comune retto fino a questo momento da tre commissari prefettizi. Ma ad oggi i gioiesi sono in campagna elettorale e dovranno fare i conti con quattro candidati a sindaco a cominciare dai due più quotati a conquistare la poltrona Palazzo Sant'Ippolito. Il primo è Aldo Alessio, già sindaco del centro pianigiano negli anni 90 e considerato da tutti come emblema dell'antimafia, che presenta due liste, la città futura e avanti tutta. Questa volta Alessio ha buone chance di avere la meglio. Poi c'è il centrodestra che si è raccolto intorno alla figura dell'ex consigliere provinciale ed ex amministratore gioiesero Raffaele D'Agostino, già vice sindaco nella giunta di Daltorrione, che avrà due liste a sostegno, Gioia Rinasce e Gioia Tauro Cilega, quest'ultima capitanata dal segretario cittadino della Lega di Salvini, Nicola Pulimeni. A seguire i possibili outsider Nicola Zagarella, pluriveterano consigliere comunale con esperienze amministrative nell'ente, che guiderà una lista civica, partecipazione e democrazia. E il PD, che forzatamente ha messo su una lista capitanata dal commissario cittadino del partito, nonché responsabile provinciale del Partito Democratico, Giovanni Puccio. Ma chiunque dovesse vincere il turno elettorale del 21 ottobre dovrà fare i conti con una situazione drammatica. L'ente è stato toccato da inchieste importanti della magistratura antimafia regina, che hanno colpito il cuore del comune coinvolgendo, in una di queste indagini, il capo dell'ufficio tecnico dell'ente. Situazione che ha portato successivamente allo scioglimento postumo per mafia di un consiglio comunale già mandato a casa da una sfiducia politica all'ex sindaco Giuseppe Pedà. Altra emergenza a cui dovrà fare fronte è il buco colossale dei conti. Il comune è indichiarato dissesto finanziario. Si parla di un debito enorme, una questione morale all'ordine del giorno e poi tanti servizi comunali che non funzionano a cominciare dalla raccolta dei rifiuti e tante emergenze ambientali. Gioia Tauro è sede sia di un chiacchierato impianto di depurazione gestito dalla IAM e di un mega termovalorizzatore che tanto ha fatto protestare in entrambi i casi la cittadinanza. Una realtà difficile dunque quella di Gioia Tauro, dove il prossimo primo cittadino dovrà essere un incrocio tra un severissimo generale dell'esercito e un manager inflessibile, usando in entrambi i casi metodi forti per portare fuori da un contesto tragico una città che da anni aspetta di essere amministrata dopo tanto non governo.